la moria degli alberi poi il vento ha fatto una catombe guarda va sono anni e anni classi 155 non ho mai visto una cosa simile mai mai guarda la spacca dalla motà tutto qua la salva di prato e la distrugge guarda quando fai l'imboschimento se continui questo passo anche là sopra vabbè qua guarda tutta una pile d'alberi fin da sotto compreso questo adesso salgo sopra salgo di lato perché qua bisogna salire di lato così se no qua avrebbe stato lì andiamo a spettare la cosata salgo sopra qua per salire bisogna mettere i piedi così vedi di lato di lato perché ci scegola vabbè proseguo la zona più colpita ogni tanto c'è c'è qualche cosa di rossa piena c'è qualche bacca arriviamo qua ci sono dei tornanti devo girare per evitare guarda là un altro albero spazzato qui si pronti un altro guardiamoci qui fanno sembra un altro che contro aerea guarda che è successo qua megatombe vedi un albero sdaticato questo è qui spezzato adesso che faccio che si scivola vabbè che è una mano ma però qua si scivola eh comunque si cadde sempre sopra la neve la neve tutisce ecco qui da qui ci vedete la visuale allora un albero e questo qua vedi un altro là un altro qui e guarda di là più questo è stato proprio sdaticato lo vedete vabbè qua siete buoni quando è asciutto posso camminare di più e qui che ci sta qui e qui è ancora peggio mappa tu muoce l'ombrello per salire si l'ombrello è meglio eh si guarda qui allora qui ci va su e che è successo qua mappa tu vabbè vabbè mi fa mascare di qua la ciappa qua quella con la mano eh l'altra carpina questa carpina questo è stato il giro di gato sempre con la forza del vento vedete si guardate che è trappato il vento ora è spezzata proprio qua se continua così distruggi tutta la selva e non c'è nessun rivello poi sta legna questo dovrebbe venire a recuperare probabilmente anche il comune e quasi le deve ripristinare se poi non per il boschi in mezzo puliscono le città e qua non ci sono più i rami per vanno vanno qui